Tutto in anticipo, è chiaro nei negozi devo pagare per avere il prodotto, ma immaginiamo delle ristrutturazioni, l'intervento di un meccanico sulla mia macchina, diamo un anticipo e poi il saldo al lavoro effettuato, l'ultima reclamare per iscritto, questo è fondamentale, non limitarsi alla protesta telefonica ma scrivere una mail, meglio se in copia mettete l'unione consumatori. Ecco, sono 5 modi di fare che devono diventare delle abitudini, vi assicuro che cambia radicalmente il vostro livello di tutela e molti dei consumatori che usano queste 5 regole poi non hanno neppure bisogno di arrivare ai nostri sportelli perché il negoziante, il commerciante si rende conto che rischierebbe qualcosa, la sfida è che per tutti i cittadini queste diventino delle abitudini e poi gli acquisti, le dinamiche di consumo per la maggior parte vanno per il verso giusto ma quando non andranno per il verso giusto vedrete che in questo modo voi avrete messo le condizioni per tutelarvi al meglio o per farvi tutelare da noi nel migliore dei modi.